Musica Serie D, il gubbio annichilito dal città di Castello che passa 3-0 al Barbetti nel derby Sorridono anche città di Foligno, Gualdo, Casa Castalde e Sansepolcro Promozione, il Fontanelle Branche, campione d'inverno Serie B, il Perugia cade 1-0 nel lunch match a Bari Proteste bianco-rosse per un gol annullato a Dardemagni nel finale Volley Superlega, Sir Perugia e Spugna Latina Basket a 1 femminile, Umbertide cede con sesto San Giovanni Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TG Sportivo Nella sedicesima giornata di Serie D, il gubbio crolla 3-0 al Barbetti Nel derby con il città di Castello, Reti di vent'anni e Missaglia Nel primo tempo di Gorini, obiettivo di mercato proprio del rosso-blu Nella ripresa il tutto a pannaggio della compagine bianco-rossa Mentre il gubbio si è visto di fatto solo nella prima parte di gara Con Balistreri che ha colpito la traversa sul punteggio di 0-0 Il gubbio resta così fermo a quota 27 in graduatoria Scivolando al quinto posto a cinque lunghezze dalla capolista Montecatini Mentre il città di Castello sale in nona piazza a quota 24 Ma sentiamo a fine gara le parole di entrambi i mister delle squadre Il nostro grande peccato sia stato quello di scioglierci dopo aver preso il primo gol Non abbiamo avuto una reazione Abbiamo lasciato la squadra avversaria in grado di fare il 2-0 Poi lì non c'è stata più partita È un po' il limite nostro in questo momento Un po' quello che purtroppo è capitato anche in Coppa Italia Dove alla prima difficoltà ti sciogli È un limite sul quale dobbiamo lavorare Vedere le ultime prestazioni e vedere quella di oggi Non ha una spiegazione logica Mi viene da pensare che forse dopo il primo gol subito C'è stato veramente un crollo psicologico Prestazione quasi perfetta Abbiamo, sia da un punto di vista tattico Abbiamo preparato la partita per cercare di creare delle difficoltà al gubbio E cercare di sfruttare quelle che sono le nostre armi Armi che dopo il mercato di riparazione si sono ancora più arricchite E in questo momento possiamo veramente fare delle scelte In base a quelle che sono le caratteristiche che vogliamo mettere in campo E soprattutto che possono essere più utili per vincere partite come queste Non c'è solo l'espluà di Città di Castello Nell'odierna giornata di Serie D per le Umbre Tre punti d'oro sono quelli delle città di Foligno In casa con il Viareggio grazie al gol del primo tempo di Di Paola Finisce 1-0 e ora i falchetti raggiungono quota 25 Sono pronti a tuffarsi nel rush finale di mercato Nelle parti basse della classifica punti pesanti Per il Gualdo Casa Castalda che supera 3-1 nel derby La Voluntas Spoleto E per il Sansepolcro che finalmente interrompe il digiuno di Vittoria in casa Regolando la Pianese per 1-0 Ricordiamo che alle 21 su TRG1 Canale 111 Andrà in onda la replica dell'ultima puntata di Fuori Gioco Con tutti i servizi delle Umbre di Serie D E commenti in studio insieme al centrocampista del Gubbio Marco Croce e al responsabile dell'organizzazione sportiva del Sansepolcro Ivano Becci In Serie B è stato un pranzo indigesto per il Perugia Nell'anticipo delle 12.30 al termine dei 90 minuti Poco esaltanti, molto ingestati sul piano delle occasioni E il Bari a prevalere per 1-0 A decidere una gara avara di emozioni A un euro-goal di Sabelli al 22esimo della ripresa Proteste bianco-rosse nel finale Quando l'arbitro Gherzini di Genova Annullo un gol ad Ardemagni Per un fallo di volta sul portiere locale Guarna Il Grifo scende così all'undicesimo posto Ad una lunghezza dalla zona play-off E da domani si riprende In vista dell'anticipo di venerdì sera Al Curi con il Livorno Ma sentiamo le interviste A fine gara Agli allenatori Bisoli E Nicola E al difensore bianco-rosso Volta Tu mi devi dire il Bari cosa ha fatto per vincere questa partita Se non il tiro di Sabelli Il nostro portiere non ha sporcato i guanti Aspetta, prima se vai a ricorrere Il loro portiere, il Guarna ha fatto una grande parata La palla è rimasta sulla linea E nessuno l'ha buttata dentro Il primo tempo è stata una palla di Spinazzola Che ha attraversato tutta la linea E nessuno l'ha buttata dentro Vedere a Bari in emergenza Contro una corazzata Che deve stravincere il campionato Perché secondo me è una squadra forte Contro una squadra che aveva dei problemi Perché mancavano sei giocatori potenziali titolari Noi abbiamo giocato alla pare E quando c'è i gol Cominciano a darmi gli arbitri Perché noi il quarto gol c'è l'uno regolare Quando c'è un regolare Cominciano a darmi gli arbitri Poi avesse di essere a 24 Ero a 30 Parlevamo di un super Perugia Ora mi sono stufato di non avere rispetto Ma non per me Per i miei associatori I miei giocatori e tifosi Io sono l'ultimo che voglio avere rispetto Però è anche vero che comincio a stufarmi La recriminazione del suo collega Bisoli Nel dopogara Sotto la lente di ingrandimento Il contrasto fra Volta e Guarna È un presunto fallo del rigore su Belmonte Lei ha qualcosa da commentare? Sì vabbè ma voi ormai lo sapete come la penso Io non mi ripeto però L'unica cosa che cambio è il fatto che Inizia a darmi fastidio Che ogni persona che arriva a Bari Pensa di essere stata dedurbata di qualcosa Allora mettiamoci lì Tutti gli allenatori di Serie B Con tutto ciò che ci chiedono ogni giorno Cioè di elevare il livello di cultura del calcio E mettiamo i numeri del Bari Attaccati magari alla parete E vediamo quali sono questi presunti favori Io conto un rigore innegabile Per un fallo di mano E zero altre situazioni Dove il Bari possa dire che ha 35 punti Perché qualcuno lo guarda di buona faccia Dico che dal punto di vista In termini di regolamento Il fallo su Guarna In termini di regolamento È fallo netto Perché la palla è mano al portiere con le due mani Poi se l'arbitro avesse dato il golo Non avrei commentato Non mi sarei sentito derubato E non avrei fatto questione Perché io scelgo di fare così Guarna gli ha fatto un gran cross drolet forte Io non ci sono arrivato Guarna è uscito Gli è scappata mi sembra la palla È andato a contrasto con drolet La palla non l'aveva bloccata Però aveva le mani da una parte lui E dall'altra c'era il piede di drolet L'arbitro ha deciso così Non aspetta a me dire se ha fallo o no Però è stato un contrasto tra portiere e difensore Fatto sta che poi ce l'ha annullato Ultimamente gli episodi ci girano un po' contro Però ci rimbocchiamo le mani che andiamo avanti Si è giocata la quindicesima giornata In eccellenza Occasione di fuga mancata Per la capolista Trestina Che impatta 2-2 in casa dell'Angelana Che non approfitta dunque dello 0-0 Tra Subasio e Villaviaggio Nel big match di giornata Avvicina il terzo posto Il Castel del Piano di Ciuccarelli Che vince a Ponte San Giovanni di Misura Con il tecnico Ponte Giano Balducci Ora ad un passo dall'esonero Anche a causa di un diverbio Nell'intervallo con il presidente Monsignori In zona salvezza Successo di Misura anche per il Bastia sul Todi E vittoria anche per la Trasimeno sul Cannara Pareggi in serie invece Tra Massamartana Narnese Petrignano Ventinella E Sanzisto Torgiano In promozione regionale Torna capolista solitario Nel girone a il Fontanelle Branca Nell'ultima giornata del girone d'andata Laureandosi così campione d'inverno I bianco-blu battono 1-0 San Giustino Grazie ad una rete di Gambini Dopo 6 minuti Ed approfittano del pareggio A rete bianca del Ponte Valleceppi A Pietralunga Nel prossimo turno Ancora un impegno casalingo Per gli ogubini Che affronteranno al Santa Barbara La Pieveese In A1 femminile di basket Sconfitta interna per la pallacanestro femminile Umbertide superata 67-65 Al Palamorandi da Sesto San Giovanni Dopo 5 vittorie consecutive In Cisilver maschile Conferma di primato e di imbattibilità Per Val di Ceppo Che seppur a fatica regola Umbertide E Foligno riesce ad espugnare la polivalente Nonostante un gubbio in crescita Annientato invece il Gualdo Sul parquet di Todi Con Assisi che spugna il campo di Orvieto Nella Superlega di Volley Perentorio Blitz Della Sir Safeti Conad Perugia Che viola 3-0 Il campo di Latina Con l'assistente Carmine Fontana In panchina In attesa del ritorno di Kovac Che firmerà domani il contratto Con la società bianconera In B2 maschile Gran duello Nel derby Umbro Tra Gerardi, Cartoedit Città di Castella e Perugia Con vittoria Al tie-break dei Tifernati In B1 femminile La Thun Perugia Coglie bottino pieno a Pescara Mentre crolla San Giustino Sotto i colpi di Orvieto In B2 Continua a vincere La New Font Morigubbio Che regola 3-1 Macerata Alla Polivalente Era l'ultima notizia Per il TG Sport Dunque vi ricordo Proprio per lo sport La replica Questa sera Su TRG1 Canale 111 Del salotto di fuorigioco Condotto da Carlo Angeletti Grazie per averci seguito A voi Una buona serata Grazie per averci seguito Grazie per avercibito Grazie per avercibito Grazie per avercibito